Ciao a tutti, sono Matteo Tiraboschi, anch'io voglio aderire a quella raccolta SLA, andrò io stesso a fare bonifico al centro Stefano Borgonovo e voglio nominare alcune persone, alcune sono amiche, altre sono famose e non mi conoscono, spero che non si offendano, ma penso di no. Il primo che nomino è l'amico maestro Ezio Paloschi, il secondo che nomino è l'artista mia amica Simonia, il terzo che nomino è il mio amico Olvava, poi nomino il mio mito, grande Vasco Rossi, poi nomino un personaggio illustre, che è il Papa Francesco, secondo me è un Papa così alla mano, che secondo me sarà il primo anche lui a fare questo gesto, poi nomino la bellissima Monica Bellucci, che spero di abbracciare una volta al vivo, poi voglio nominare il Presidente della ditta per cui lavoro, persona affabile, persona in gamba, che anche secondo me accetterà, il dottor Paolo Rocca, Presidente di Tenaris d'Almine, e poi nomino il nostro illustrissimo Presidente Giorgio Napolitano, secondo me accetterà anche lui, perché è una persona che sa vivere e apprezza la vita. Speriamo che altra gente possa fare questo, sentiamo contro questa malattia affinché possa essere debellata definitivamente. Uno, due, tre... Fortuano Levino! Fortuano Levino Grazie.